salve a tutti ragazzi e benvenuti sul mio canale oggi faremo un video spoilerato un video spoilerato perché già ieri ho fatto il video di quel fantastico fiore che è cresciuto da uno solo di cabomba fuori fuori dalla vasca quindi già sapete di che cosa sto parlando però oggi faremo un video generale sulla vasca appunto sulla mia nuova scatta da ecco questa è la mia nuova vasca appunto un rio 125 che ho comprato da un signore quindi una vasca una vasca usata e che appunto ho messo in funzione da quasi due settimane e come vedete c'è un po un po di confusione qua dentro perché devo fare devo fare degli spostamenti e quindi non è che non è che sia diciamo la versione definitiva della vasca però ecco appunto diciamo che diciamo che siamo sulla buona strada ecco perché questa vasca in questa vasca ci andranno i miei ciclidi malawi quindi che ho nell'altra vasca e quindi quindi niente questo questo è quanto per l'appunto e allora questa vasca il classico filtro a cassone della giuvel con appunto il sistema fatta cinque spugne più più il materiale biologico una pompa e basta questa era la versione a neon aveva di sei due neon t5 che però sono state sostituite con una barra a led ora io in questa vasca siccome ci dovrò ci dovrò mettere dei ciclidi del lago malawi non ho potuto mettere chissà quali piante perché come sapete appunto i specialmente quelli che ho io di ciclidi che sono gli pseudotrofeus tendono a cibarsi a cibarsi di piante quindi queste piante a stero qua che vedete che ho lasciato così in superficie ovviamente spariranno da questa vasca perché perché sennò offrebbero una brutta fine quindi quindi niente mi dispiace le uniche piante a stelo che ho visto che comunque stanno bene con quei ciclidi lì sono le piante di egeria nazas insomma come come volete chiamarle però appunto queste piante spariranno come fondo ho messo il sansibar della jbl che è appunto questo fondo di sabbia non ne ho messo non ne ho messa molta perché appunto mi serviva diciamo preservare la colonna d'acqua che appunto mi serve per per i miei per i miei ciclidi e poi e poi niente ci sono appunto queste pietre che comunque forniscono delle tane ai miei ciclidi e c'è c'è un legno che anch'esso funge funge da riparo per per i pesci e niente questo è quanto appunto la prossima settimana sabato prossimo si arriva alla seconda settimana seconda settimana di maturazione della vasca alla quale appunto alla quale appunto ho messo soltanto un po d'acqua della dell'altra vasca per accelerare appunto i i tempi i tempi i tempi di maturazione perché appunto così facendo si dà una mano alla formazione alla formazione dei batteri e così via insomma e niente la vasca è questa qua io per la prima settimana ho messo anche un carbone super attivo perché per appunto essendo una vasca usata ho pensato che potesse essere una cosa buona perché non sapevo che cosa ci poteva essere stato prima quindi quindi niente appunto ho pensato che che potesse potesse essere utile il carbone che poi chiaramente dopo una settimana ho tolto perché perché appunto non c'era più bisogno però diciamo che va bene adesso i valori stanno a per gli anno 2 a 0 gli anno 3 anche quindi appunto in fase in fase in fase di maturazione e e e niente e ph 8 quindi va bene va bene per i ciclidi e niente oggi faremo un video cioè questo è un video speciale perché diciamo che sarà un video un po' un po' terra acqua o o o acqua terra e e niente tra poco appunto ci vedremo ci vediamo da una parte e che sarà appunto una bella sorpresa per per tutti noi a dopo salve a tutti ragazzi oggi siamo qui a casa di Manuel buonasera e niente oggi faremo un video su delle vasche un un po' particolari diciamo un po' diverse dal solito sicuramente non sono le vasche della signora maria sono le vasche del signor signor manuel che adesso ci spiegherà un attimo e ci farà vedere anche delle cose molto molto belle e particolari bene ragazzi volevo vi volevo accennare che abbiamo deciso di fare questa collaborazione per il video sul canale di Luca poiché abbiamo visto che le nostre passioni diciamo sono diverse però da un certo punto di vista si incontrano però aspetta tu oltre a questo sei anche diciamo appassionato di pesci di acquarioferia di acquarioferia quindi infatti prima di allestire le mie vasche sotto forma di terrario avevo degli acquari e dopo vedrete un enorme cambiamento nella mia vasca principale dove ho installato diciamo un piccolo biotopo talandese e a livello di palludario diciamo così diciamo una specie di palludario certo e niente volevo parlarvi delle mie vasche avevo iniziato con un acquario 125 litri e con pesci malawi ah certo con degli esemplari del lago malawi africano e niente adesso invece siamo passati a questo tipo di esemplari qui me ne mostro subito uno ahahahahah un ciclide molto particolare e un ciclide terrestre come potete ben vedere questo è il mio preferito lucifer è il mio preferito e dici un po' insomma che animale è come la razza insomma lui è un eterometrius laoticus e diciamo vive nelle foreste orientali principalmente in Cina o in Thailandia comunque si può trovare in quegli ambienti molto umidi e con climi abbastanza caldi diciamo perché tropicale subtropicale e niente ho iniziato comunque come dicevo prima ho iniziato con questo acquario di 125 litri dove e mi era esplosa la passione per l'acquariofilia ciò che avevo è una passione che avevo sin da piccolo avevo sei anni quando andavo in giro comunque a prelevare insetti e e e quant'altro ma avevo anche un piccolo acquario dentro casa e tutto è inizio che poi tu sei uno che insomma che che era vive questa passione sì certo la vivo perché comunque cerco sempre di di arrivare alla riproduzione degli esemplari che ho in casa e cerco di viverli a 360 gradi giorno per giorno studiando anche le loro abitudini e come vivono nel loro ambiente naturale dillo un attimo perché se nasce sempre vuoi certo dicevo avevo questa vasca allestita un acquario normalissimo con guppi e classici pesci da come si dice da inizio da principianti sì dopo di che mi è venuta la passione mi è esplosa e quindi ho comprato tre piragna e questa è una cosa ragazzi non fatela nessuno perché mi dovete credere è una cosa abominevole ciò che ho fatto ero piccolo ero incosciente avevo molta esperienza da fare ancora vabbè diciamo che questa è un po' una fase che abbiamo fatto tutti la fase della cazzata l'abbiamo passata tutti quindi non possiamo farne almeno chiunque nella sua vita sin da piccolo ha passato comunque abbiamo passato tutti la fase del cazzaro anche sotto consigli diciamo un po' sbagliati sotto consigli sbagliati da parte del negoziante certo perché e una vasca di 40 litri con tre piragna natere lì dentro insomma non è l'ideale è un po' troppo spinto diciamo è un po' troppo spinto a livello di gestione a livello di mantenimento e di benessere comunque dell'animale stesso e niente avevo questi tre piragna che dopo un po' sono cresciuti e ho dovuto riportarli al negoziante perché in 40 litri si sono sviluppati in quattro mesi in quattro mesi sono arrivati da una taglia di 3 centimetri ad una taglia di di quasi 16 centimetri però spiegaci come sei passato dai pesci a gli scorpioni e così via perché adesso vedrete che lui è avevo avevo sempre io ho sempre avuto la passione del comunque la passione mia si sprigiona dall'acquariofilia agli artropodi agli aracnidi anche ai rettili e ho avuto delle iguane ho avuto vari tipi di acquari anche insetti di vario genere e ultimamente siccome per motivi di lavoro non potevo più gestire la vasca dell'acquario principale ho deciso di smanterlarlo non col martello però giustamente ho deciso di fare piazza pulita e comunque ho regalato i miei pesci a Luca che adesso se ne prende cura i miei pseudo trofeus che prestaranno una nuova casa ho visto una nuova casa che sono bellissimi nella tua introduzione ho visto che hai fatto le riprese della tua prossima masca la loro futura casa e quindi però diciamo che lui cioè tu non sei uno che fai cose così insomma adesso vedrete che ha fatto insomma un terrario no? un terrario è un terrario però fatto quello principale è fatto veramente bene sono soddisfatto del lavoro che ho eseguito e ho altri diciamo altri terrari più piccoli per la gestione delle altre specie e gli animali che detengo ora sono delle sprodomantis lineola che mi ha regalato un mio amico di Roma e ho che sono? delle mantidi? sono delle mantidi e di grossa taglia diventano molto grandi quanto crescono? beh cargola arrivano tranquillamente ai 10 cm quindi? in cattività arrivano comunque 10 cm ci arrivano tranquille e ho un eterometrius petersi che è uno scorpione sempre asiatico e il laudicus che avete visto precedentemente farvi vedere magari perché noi qua abbiamo un po' di si abbiamo portato un po' di esemplari abbiamo portato un po' di esemplari da farvi vedere questo è il petersi guarda mettilo riuscino a alla camera così è un po' arrabbiato adesso cerchiamo di tirarlo fuori delicatamente ecco questo è il petersi come potete vedere non è che ha differenze eclatanti dalla oticus in quanto all'aspetto ma si può notare comunque la differenza nella misura perché il laudicus è molto più accentuato in tutto è più grande raggiunge 14 cm mentre questo qua da adulto che adesso si è fermato ai 10 cm è una femmina sono entrambi femmine ok e niente la loro dieta è caratterizzata principalmente da da piccoli invertebrati blatte dubbia qualsiasi tipo di insetto che riescono a catturare comunque che riescono a catturare in base alle loro esigenze alla loro grandezza ma quindi tu in pratica oltre a tenere questi hai anche a parte diciamo una cultura di blatte diciamo ecco si diciamo che ho dovuto nonostante comunque io prendendo questi animali sono andato incontro anche ad altre spese poi che il mantenimento diciamo che è semplice ma devono essere nutriti quindi in qualche modo devi soddisfare le loro esigenze alimentari e l'acquisto più frequente che faccio è le blatte dubbia per i più grandi quindi prendo le adulte e le sub adulte e le faccio riprodurre comunque nel mio vivaglio che è piccolo per le necessità che ho io mi serve non mi serve grande e ho acquistato anche dei grilli dei caimani che ora sono finite dovranno arrivare più tardi se oggi dovrebbe arrivare il pacco comunque Luca ecco quindi faremo anche un unboxing forse si spera di sì se più tardi arriva il corriere ci porta il pacco e vedremo faremo vedere ai nostri amici cosa ci è arrivato bene bene poi qua vedo anche insomma sì il mio allevamento il mio allevamento ha anche altri esemplari che vedremo più tardi ma qui ho portato per esempio delle polispilota eruginosa qui abbiamo una femmina si vede poco perché è dentro la scatola abbiamo una femmina qui ne abbiamo un'altra anche più grande forse si vede meglio e niente comunque come tutte le mantidi sono dei predatori abbastanza voraci e la loro dieta consiste sin dai primi stati da insetti vivi di qualsiasi genere e camole del miele camole della farina blatte, grilli, locuste anche loro simili comunque anche avanti di più piccole quindi comunque dietro c'è c'è dello studio diciamo c'è dello studio c'è dello studio un piccolo lavoro sull'informazione e sulla preparazione e all'acquisto di questi esemplari ecco qua siamo nell'angolo di Manuel dove tiene i suoi terrari vediamo qua che ce ne sono ben quattro se non sbaglio qualche altra cosa e le piccole vaschette d'accrescimento per le mattini e adesso vabbè spiegaci un po' di che cosa si tratta nel dettaglio qui sotto abbiamo il scusate abbiamo il piccolo terrario dove avviene l'accrescimento degli eterometheus che io personalmente lascio insieme sia il petersi che l'audicus poiché non ho mai riscontrato nessun tipo di attacco fra loro devo dire che stanno benissimo insieme non si attaccano non si danno fastidio niente questo è quanto insomma vivono tranquilli mangiano cioè ma guardate che minuzia che minuzia che minuzia nell'ambiente la vedo un muschio vedo dei rami insomma la maggior parte delle rocce messe messe bene insomma la maggior parte dei componenti che costituiscono i miei terrari sono cose prelevate in natura comunque arredi di tipo di arredamenti sono prelevati in natura e sanificati comunque per garantire la il benessere degli animali all'interno dei terrari certo e questo qua è un biotopo questo diciamo tailandese a me piace il tailandese come potete vedere infatti ho tre vasche la quale anche la principale riprende riprende quel tipo di foresta cioè guardate che spettacolo che ambiente che è riuscito a fare questo ragazzo che veramente è proprio fenomenale in questo momento nel terrario che stai riprendendo ci sono le mantidi orchidea che sono piccoline dopo ve le faccio vedere che veramente cioè guardate ci ho messo anche una piccola cascata col Buddha e un piccolo laghetto con delle caridine sono delle neocaridine ah ecco vediamo se se riesco a farle vedere non so se si vedono ma ci sono forse sotto al sasso o nel mezzo alla pianta vabbè comunque ci sono eccola la si vista per un attimo forse si 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 ecco la vedo la vedo la su un angolo sta proprio la comunque queste che piante sono che vediamo nel terrario vi dico come ho allestito questa vasca questa vasca è partita che all'inizio era un acquario in stile eccola qua la caridina rossa guarda che bella ah si red fire panty quella lì l'ho selezionata io l'ho riprodotta dopo vi faccio vedere anche la piccola vasca loro si 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 allora qui questa come dicevo prima questa vasca era allestita allestita come un acquario era un acquario fatto in modo in stile africano diciamo per i cicli del malawi si gli pseudotrofeus gli pseudotrofeus esatto dopo di che ho levato tutto e ho allestito questo terrario diciamo paludario come lo volete chiamare lo chiamate e con dell'argilla espansa sul fondo che la potete vedere qui si se si vede bene questa qua eh c'è dell'argilla espansa sul fondo che fa anche da filtro ah ecco poiché il tutto ha un filtraggio biologico dato dalle piante dal muschio e anche dalle piante acquatiche che sono nel laghetto e per la per il movimento dell'acqua utilizzo la semplice pompa che era la pompa dell'acquario precedente e cosa ho comprato e cosa ho prelevato in natura allora di comprato ci sono queste piante qui davanti simili al bambù si la cascata col Buddha il pexiglass per fare da barriera per il laghetto e e la felce l'ha all'angolo e la pianta quella lì con le venature rosse di cui non mi ricordo il nome il resto ragazzi è tutto prelevato in natura ecco quindi appunto prima anche il nostro come dicevamo del fatto che comunque tu vivi questa passione cerco sempre cerco sempre di avere comunque il top per i miei animali e comunque cerco sempre di avere ciò che mi serve e ciò che è adeguato all'ambiente certo infatti si vede perché comunque regà questo è veramente veramente una minuzia studiato proprio nei minimi particolari qui invece che cos'hai? qua sotto? qui invece è il terrario adibito a zona deserticola come dice il cartellino ok qui c'è la Drurus Arizonensis non so se riesce a mettere il fuoco forse con la mano così si ecco ok la Drurus Arizonensis che è lo scorpione che vi ho fatto vedere prima quello lì che ho imbalsamato qui invece è l'esemplare vivo che potete vedere là sotto appena uscito dalla Tana inquadra più in basso Luca guarda lo vedi da qui eccolo là si è un po' comunque eccolo eccolo e questo ci dicevi che è lo scorpione che è più pericoloso diciamo diciamo tra quelli che ho sì che è quello che può dar più noie se vieni punto comunque il rischio è maggiore diciamo certo però comunque appunto vediamo che anche qua c'è una certa cura no? perché sembra proprio diciamo l'ambiente l'ambiente del deserto ecco l'ambiente l'ho riproposto come l'ambiente proprio del deserto dell'Arizona con con la sabbia del certo certo non è che sono andato in Arizona a prelevare la sabbia certo però ho cercato insomma di prendere lo stesso tipo di sabbia da del deserto dell'Arizona certo certo va bene questo è uno scorpione che è fossorio ama scavare e e niente comunque la sua alimentazione si basa e principalmente su prede vive e e come si dice molto veloci insomma che si muovono molto velocemente quindi grilli l'opuste perché lui scava la tana in profondità e tramite le vibrazioni del terreno che riesce a captare dai peli che ha addosso infatti viene chiamato scorpione del deserto dai lunghi peli e riesce a prendere a captare queste vibrazioni e quindi a predare le le sfortunate prede che si avvicinano alla sua tana certo va bene queste sono le mie vasche una cosa che vi volevo far vedere in più era come riesco ad aumentare o ah ecco ad aumentare la la l'umidità l'umidità della mia vasca ho comprato sembrerà strano ma è vero su ebay un umidificatore con un tubo ecco faccelo vedere che è è un tubo un umidificatore ad atomizzatori lo introdurgo qui dall'altro che tu attivi e nel giro di quanto? nell'arco di due minuti dipende dall'intensità dipende da io mi regolo in base all'evaporazione del livello del laghetto più evapora più vuol dire che fa caldo all'interno quindi l'umidità e diciamo aumenta fino a un certo livello ma comunque dopo un po' quando va via perché io qua sopra ho fatto dei buchi e ho adibito delle delle retine per non far scappare logicamente gli animali l'umidità se ne va via io con questo riesco a regolarla fino all'80 90% ora vedete del fumo questo è il minimo che spettacolo questo si che veramente è e ora vi faccio vedere il massimo è un terrario 2.0 o 3.0 al minimo e dà quell'effetto nebbia che è spettacolare bello bello sembra non so di stare dentro Jurassic Park o non so un film simile che spettacolo bello cioè vedete qua la cura appunto che che Manuel ci mette nel gestire i suoi terrari perché per l'appunto è veramente una cosa una cosa spettacolare qua vediamo la mantide che sta che in procinto di farsi i fatti suoi sul ramo è veramente bella caspita spettacolare ci ho messo un bel po' calcola che ci ho messo una settimana a installare il tutto e a renderlo funzionante ad ottimizzarlo ci ho messo due mesi massimo però appunto vedete la cura che uno uno come Manuel ci mette e anche il tempo appunto che ci vuole la come dire la costanza che ci vuole appunto nel corso del tempo e va bene da questo video è tutto eccoci qua ragazzi siamo ritornati questo è un surplus diciamo del video precedente un extra è un extra ci stiamo salutando io ringrazio Luca per avermi diciamo integrato in una parte del suo canale e avermi fatto partecipare a questo video insieme a voi che è un piacere assurdo perché comunque tu a parte che sono anni che che te conosco ma poi so che comunque ci metti veramente passione in quello che fai quindi io ti ringrazio per me è un grandissimo piacere però adesso c'è una sorpresa si vi abbiamo lasciato un'ultima sorpresa proprio all'ultimo a fine video vi ricordate l'unboxing che vi avevamo promesso eccolo qua allora ragazzi io ho appena aperto il pacco giustamente per controllare che gli animali non erano morti cosa che già è successo vi posso dire che ho la garanzia qui sopra il pacco poiché senza richiesta il sito ti da due heatpack il che non è poco perché di solito ci sono siti che non te li mettono proprio oppure te ne mettono uno solo questo sito senza richiesta già lo fa lui come metodo di spedizione ti mette due heatpack uno all'esterno la serietà uno all'esterno del polistirologo uno all'interno per mantenere i vostri animali vivi e vegeti fino all'arrivo a casa perfetto allora oggi ci sono arrivati questi esemplari ci facciamo vedere allora questi erano dei grilli small che avevo preso vabbè mi servono come potete vedere qui questi ci servono come alimento per i nostri animali quindi torniamo sempre al fatto che ci vuole una certa cura ogni tot fai gli ordini su internet ma questo è un ordine che io avevo fatto e non è neanche completo loro mi hanno mandato soltanto la prima parte che era quella diciamo degli animali più disponibili che avevano al momento gli altri come la Drurus Arizonensis e gli altri due che ho preso devono ancora arrivare perché non ne avevano a disposizione certo allora questi sono i nostri due esemplari impacchettati ancora di Adrurus sei Adrurus scusa vedi Legaf Eterometrus Laoticus procediamo con l'unboxing ecco i nostri piccolini appena arrivati sono un maschio e una femmina perché qua non si finisce mai di scartare eh manca Natale cioè guardate guardate è proprio contento come un bambino col suo giocattolo è peccato che qua non è che stanno a parlare dei giocattoli diciamo che è un giocattolo un po' un giocattolo un po' beh sta razza qua è un giocattolo un po' aggressivo anche se non è che sono giocattoli però eccolo qua vediamo un po' questo dovrebbe essere sì questo è il maschio eccolo qui il nostro cucciolo ammazza che bestia bello eh deve mangiare perché comunque è un po' secchetto vabbè sicuramente sarà pure lo stress del viaggio sì questo è lo stress del viaggio allora lo mettiamo un attimo giù prendiamo la femmina questa volta però la apro così perché quell'altro ha fatto un macella assurdo eccola qua e questa è la nostra nuova femminuccia da aggiungere all'altra da che si vede se sono maschi o femmini allora il riconoscimento per la maggior parte dei casi si deve sollevare diciamo lo scorpione e si vede dalla parte inferiore a l'apparato riproduttivo e nella femmina ha una forma nel maschio ne ha un'altra ora non sto a specificare perché può essere che cambia da esemplare esemplare da una parte è più abbombato più ovale mentre magari nel maschio è più a forma di triangolo e si vede proprio perché è come posso dire è molto evidente il dimorfismo e la parte più semplice per riconoscerlo invece è vedere che il maschio ha sulle chele diciamo non so se potete vederlo da qui si si vede un dente che è più pronunciato ora lo vedete qua sul maschio quel dentino sulla chela fa tipo zig zag esatto è più pronunciato mentre nella femmina è totalmente o quasi assente vedete quasi assente e nel maschio invece è molto ma molto più evidente si questa è un'altra femmina bellissima poi quindi tu adesso hai tre femmine e un maschio o due femmine e un maschio di questa razza il petersi non conta perché è un'altra razza quella la lo dovrò dividere ho due femmine di laudibus e un maschio ah va bene ok allora da questo video è tutto ragazzi noi vi salutiamo e ci vediamo nel prossimo video ci vediamo nel prossimo video dai ciao 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 ciao